ciao ragazzi oggi video molto breve perché semplicemente perché non ho tempo ma più che altro non ci sono vere grandi notizie o novità di mercato possiamo parlare un attimino della questione di De Rossi perché come avevo detto in qualche video fa video addirittura prima di Roma Genova vi dissi che De Rossi era effettivamente infortunato e l'infortunio era molto seria la cartilagine continua purtroppo a essere infortunato io devo essere sincero incomincio ad inquietarmi per la questione De Rossi prima di tutto perché perdiamo un calciatore fondamentale per la Roma un calciatore fondamentale che ci è venuto a mancare in questi primi mesi di campionato ed è uno di quelli che è venuto a mancare rispetto all'anno scorso soprattutto perché vi ricordate ho detto secondo me De Rossi ha migliorato il gioco di cioè il modo di interpretare la posizione del regista in un centrocampo a tre ovviamente il 4-2-3-1 ancora meglio ma poi perché inizio a inquietarmi ragazzi sul fatto che effettivamente De Rossi possa riprendersi da questo infortunio perché perché si parla addirittura di un De Rossi così col contagocce fino a fine stagione con queste terapie conservative De Rossi non vuole fare l'operazione alla cartilagine del ginocchio che è una cosa particolarissima poi l'operazione può risolvere non può risolvere quindi lui non la vuole fare anche perché dopo l'operazione credo Bonaventura ha avuto lo stesso tipo di infortunio quindi un infortunio gravissimo l'aveva detto De Rossi a dicembre cioè quando aveva parlato De Rossi in quel modo si era capito che la cosa non era una cosa positiva non era una cosa normale io non so se cioè se ripetremo De Rossi in campo quello che mi mette anzi è questa cosa qui perché De Rossi sicuramente non si merita di terminare la carriera con un infortunio di terminare insomma la carriera calcistica con un infortunio e di non terminarla in campo cioè mi dispiacerebbe veramente tantissimo ma sicuramente ne potremmo parlare in altri video in seguo quando sapremo un po come si evolverà la questione stando andando avanti con le terapie conservative per cercare di ritornare il fatto poi è ritornando alla Roma insomma la questione di mercato è che un De Rossi così ti scusatemi se mi è comparsa una notifica a susciutare un De Rossi così ti obbliga a pensare al centrocampista centrale in questo senso però che cosa fai cioè punti ve lo dico a voi voglio sapere che cosa fareste voi perché il zonziera è stato preso proprio perché si conosceva le condizioni probabilmente De Rossi e si porta questo problema da un paio d'anni forse anche di più si conosceva diciamo le condizioni di De Rossi che non gli avrebbero permesso di giocare tutte le partite si è impuntato su un zonzì per prendere il centrale di un 4 e 3 e adesso andare a prendere un titolare andare a prendere un rimpiazzo probabilmente ragazzi al centrocampo la soluzione migliore sarebbe un prestito per come la vedo io proprio per valutare la le condizioni di De Rossi per avere un calciatore che che poi in estate andrà via o magari riscatterà perché ti ha convinto ma comunque sia che non ti vincola a dell'operazione nell'anno prossimo proprio per il tipo di gioco se proprio puntare su un regista puro ci potrà puntare e tutte le altre cose ci siamo detti no e poi sento anche delle ipotesi di un gerson che ritorna non lo so rega arrivare a questo punto arrivare a questo punto non ti direi neanche mi fa schifo il ritorno di gerson perché perché alla fine gerson un calciatore sono meno 4 2 3 1 lì davanti alla difesa ci può giocare tranquillamente sebbene lui in Brasile giocava alla ma chiaramente non ha il passo da ala un passo compassato non ha il passo da mezzala sicuramente sicuramente non ha il passo da mezzala sebbene a firenze ci stesse giocando non mi convince come mezzala ha qualche colpa ha un po di digna certo non parliamo di un fuoriclasse ma quanto meno di un calciatore ti può andare a fare numero perché comunque penso che qualsiasi calciatore che arriverà dovrà siedere principalmente in panchina questa è la mia idea perché cristante e zunzi stanno crescendo pellegrini giocherà lì pastore ritornerà necessariamente zagnolo ovviamente davanti con pastore pellegrini può scendere dietro ma può scendere dietro benissimo anche zagnolo ci potrebbe stare l'opzione gerson per per tappare il buco so che la roma si sta muovendo in francia un ragazzo mi ha detto ma mendes del lille da quello che so insomma sapete la fonte l'unica fonte che che verifico è quella che vi ho citato in altri video che non vi ricito perché non vogliono fare collaborazione quindi non voglio sponsorizzarli a buffo ma comunque sia una fonte molto fidata dico mi fido mi dice che praticamente non è sul calciatore della roma questi sono gli argomenti di giornata il calciomercato della roma secondo me sarà così in chiusura vi dico stavo riflettendo così in macchina secondo me il calciomercato della roma sarà veramente segreto perché dopo l'operazione malcom dubito che monci si sbilanci senza avere o faccia trapelare qualcosa senza avere qualcosa di firmato in mano ho questa sensazione ho questa sensazione che il mercato della roma in questa sessione ma anche nel prossimo sarà molto più segreto rispetto a quelli precedenti anche perché monci è una persona molto disponibile risponde anche a tifosi che danno fastidio a cosa cerca di essere cordiale con tutti quando può quindi ha fatto probabilmente trapelare troppe cose rispetto a siviglia questa è una differenza comunque ragazzi queste sono le notizie di oggi domani domani dovrebbe essere il giorno in cui arriva il fatidico il fatidico dossier sullo stadio da parte del politecnico e sicuramente trapeleranno notizie sicuramente ci sarà il tempo con magliaro in prima linea quindi commenteremo quello domani domani avrò una giornata lavorativa molto intensa ma appena posso ragazzi mi fionderò a fare un video perché sicuramente ce ne ci servirà e non mi non vi non vi dimentico che c'è il video del facchio del facchio sullo stadio che ancora in canna me lo sto tenendo me lo sto tenendo ciao dattica ciao a tutti quanti ragazzi